State per ascoltare un podcast di infonotizia.it Salve a tutti, benvenuti. Sì, quest'oggi parleremo di un genio del 1700, un genio musicale che tutti perlomeno ecco una volta nella vita abbiamo sentito nominare. Prima di cominciare vorrei premettere che per quanto abbia cercato di procurarmi informazioni il più accreditate possibili su di lui, questo non vuole essere un approfondimento accurato ma solo una panoramica da parte mia per invitarvi ad approfondire una figura di tale importanza. Non sono un accademico né tantomeno un esperto ma penso comunque per quanto possibile di poter parlare con voi di questo argomento che ho trovato davvero interessante. Wolfgang Amadeus Mozart Nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756 è morto invece a Vienna il 5 dicembre 1791. Senza dubbio Wolfgang era uno dei maggiori rappresentanti della musica austriaca se non addirittura mondiale del 1700, definito universalmente come un autentico genio della musica classica. Eppure che Wolfgang fosse un genio della musica si era già capito al suo tempo, sin dall'infanzia quando lo straordinario talento di Mozart venne fuori precocemente all'età di 5 anni, quando iniziò già a comporre o quando nel 1770, a circa 14 anni, ascoltò nella Cappella Sistina il miserere di Gregorio Allegri, una composizione musicale di grandissima complessità. L'ha ascoltata solamente due volte, ma quelle due volte bastarono a permettergli di riscrivere la composizione in una copia, un'impresa mai fatta prima di allora. Sapete, il miserere era una composizione segreta, una composizione eseguita solamente nella Cappella Pontificia. Fino ad allora chi ne avesse preso possesso, al di fuori delle mura vaticane, sarebbe stato almeno, ecco, in teoria, scomunicato. Lo stesso Papa Clemente XIV era rimasto completamente sbalordito dal fatto. Mozart fece tre viaggi in Italia. Li fece fra il 1769 e il 1773. Era passato nei suoi viaggi da molte città italiane, tra cui Provereto, Verona, Mantova, Cremona, Milano e poi ancora Lodi, Parma, Bologna, Bologna dove rimase a più riprese dal marzo all'ottobre del 1770. Bologna dove durante il suo primo viaggio fu ospite del conte Gianluca Pallavicini e dove poi in seguito studiò musica per un certo periodo per entrare nell'Accademia Filarmonica di Bologna e dove compose varie opere. Ma non finisce qui, ma poi c'è Firenze, c'è Roma, c'è Napoli e altre località vicine alla città. Poi di nuovo Roma, Spoleto, Ancona, Pesaro, Rimini, Bologna, Milano, Torino, Verona nuovamente, Vicenza, Padova, Venezia e altri luoghi insomma dove ebbe modo di conoscere meglio la penisola ai suoi abitanti. Come il padre, Wolfgang sarà musicista alla corte di Salisburgo per l'arcivescovo Colloredo, il quale tuttavia gli pagava uno stipendio piuttosto basso, 150 fiorini all'anno. E lo stesso Mozart cercò di ottenere posizioni differenti, un po' più fruttifere, ma senza successo. Durante un viaggio a Parigi il padre di Mozart, Leopold, rinegoziò la posizione del figlio presso la corte del Vescovo, arrivando a strappare per lui la carica di Konzertmeinster, cioè primo violino e organista di corte, per uno stipendio di 450 fiorini annui. Sarà sempre a Parigi che Wolfgang perderà anche la madre. La madre ammalata, chiamata Anna Maria Pertre. 3 luglio 1778, sarà sepolta al cimitero di Sant'Eustace, sarà una cerimonia triste, e specialmente un evento che segnerà fortemente Mozart. Mozart, quindi, diventò nel gennaio del 1779 organista di corte presso Sedisburgo, e la compose numerose sinfonie. Nonostante questo, Wolfgang non era certamente soddisfatto, né tanto meno sereno nel suo lavoro. Mozart lavorava per il principe arcivescovo, scusate, ma un nome tedesco impronunciabile. Hieronymus Joseph Franz, de Paula Coloridu, von Walsi Rundmels. Quest'ultimo nasce a Brno nel 1732 e morirà a Vienna nel 1812. Nato da una famiglia di origini italiane, Hieronymus era figlio, secondo genito, di un conte e vicecancelliere dell'impero. Fu nominato poco prima dei trent'anni principe vescovo di Gurk, questo nel 1761, mentre dal 1772 sarà arcivescovo di Salisburgo. Il suo carattere era piuttosto autoritario e non teso ad accettare compromessi rispetto alle sue direttive o comunque al suo pensiero. Tuttavia si trattava comunque di una figura che tendeva levemente al riformismo. Cercò infatti di elaborare un sistema fiscale paritario, cercando di seguire i principi di equità, promosse le arti e diede sostegno al sistema sanitario della regione. Parlava naturalmente tedesco, poi anche latino, ma in realtà anche francese, italiano, forse addirittura anche il cieco. Peraltro sapeva anche suonare il violino. Era, diciamo, un uomo che aveva comunque una certa cultura alle spalle. Era un sostenitore dell'Asburgo. Hieronymus cercò di promuovere il giuseppinismo, cioè la politica ecclesiastica dell'imperatore Giuseppe II, si dichiarò contrario alle rappresentazioni della Passione di Cristo, definendole come inutile miscuglio di falsità e ridicolaggine. Hieronymus si troverà a dover abbandonare la città quando arriverà Napoleone Bonaparte nel 1801. Napoleone occuperà la città dopo la battaglia di Hoenlinden, che per gli austriaci era stata un vero disastro. Ecco, Hieronymus morirà alla fine a Vienna nel 1812, non più al governo dell'arcivescovato, che ormai era stato secolarizzato, e verrà sepolto nel Duomo di Santo Stefano, sempre a Vienna. Hieronymus senza dubbio si era accorto della genialità di Mozart sin dall'infanzia di Mozart stesso, tanto da aiutare il padre di Wolfgang, Leopold, concedendo lui la possibilità di accompagnare il figlio in numerosi viaggi per migliorare le sue capacità e creare una sorta di fama all'artista. Con i viaggi di Mozart, specialmente in Austria, Hieronymus guadagnava anche egli fama, visibilità politica e diplomatica. Fra i due non scorreva comunque un rapporto troppo amichevole. Infatti, anche se Mozart arrivò a dedicare un'opera a Hieronymus, è vero anche che nelle lettere al padre Mozart era solito chiamarlo col nome di Grand Mufti, era infastidito dal troppo autoritarismo del principe arcivescovo. Da parte di quest'ultimo, invece, nonostante il riconoscimento delle capacità del musicista, stava la grande irritazione per le sue mancanze e assenze al lavoro. Mozart, infatti, non prestava la massima attenzione agli incarichi lavorativi del principe arcivescovo. Probabilmente non era attratto né dalla paga, che era quella che era, né dalle maniere di Hieronymus. Ma Mozart era sofferente anche per il fatto che il principe arcivescovo Hieronymus non si dedicasse davvero al patrocinio delle arti musicali, ma ne fosse anzi piuttosto disinteressato. Si avviò, infatti, verso una riduzione delle spese riguardanti la musica a Salisburgo e decise anche di chiudere il teatro musicale. Mozart, già stanco del fatto che a Salisburgo non fosse agevole la rappresentazione di opere liriche, iniziò a essere veramente stufo della situazione. Nonostante tutto, tenne comunque il permesso di comporre un'opera, commissionata lì a Monaco, lì Domeneo, dedicandosi a questa probabilmente nell'ottobre 1780. E già il 5 novembre del 1780 aveva preso la via per Monaco. Purtroppo per Mozart, però, questo non bastò a garantirgli un impiego presso la corte di Monaco a Baviera e dovette, dietro ordine diretto del principe arcivescovo, partire nuovamente alla volta di Vienna il 12 marzo. Hieronymus era a Vienna ormai da tempo e aveva deciso di farvi esibire i suoi musicisti, sicuro di alimentare la sua fama personale in questo modo. Pertanto, il 16 marzo, Mozart arrivò a Vienna, dove però, contrariamente a quanto magari si sarebbe immaginato Hieronymus, cantò ai 420 l'avarizia e le maniere da despota del principe arcivescovo. Mozart non poteva sopportare fra le altre cose l'essere considerato da Hieronymus niente meno che è un suo sottoposto, un sottoposto doveroso di obbedienza. Certamente Mozart doveva sentire molto il peso della sua posizione da cortigiano, che era contrapposta invece al suo forte desiderio di libertà. Fu così che Hieronymus e Mozart litigarono in maniera pesante, tanto che Mozart andò su tutte le furie e presentò per iscritto le sue dimissioni. Ma nonostante il rifiuto delle dimissioni, almeno iniziale, da parte di Hieronymus, fra i due continuava a scorrere l'incendio dell'Ira. E qui arriviamo al punto focale della nostra storia. Wolfgang Amadeus Mozart aveva dato le dimissioni e il camerlengo del principe arcivescovo, l'addetto alla camera del sovrano, il conte Karl Josef Felix Hacco, tentava in tutti i modi, spalleggiato dal padre di Wolfgang, di prespingere queste dimissioni. Nonostante l'impegno di padre camerlengo, però, non si riusciva a trovare una soluzione. O meglio, non si trovava il modo di convincere Mozart a inviare una supplica per iscritto al principe arcivescovo. Dopo l'ennesimo litigio fra il conte Arco e il giovane Mozart, il conte si risolse insultando Wolfgang e buttandolo fuori dalla sede di colloquio con un calcio nel di dietro. Inutile dire che Mozart era furioso, come anche testimoniato da una lettera datata il 9 giugno dello stesso anno, il giovane Mozart affermava di essere stato insultato, come si farebbe verso un ladro o un brigante analfabeta, nonché di essere stato brutalmente aggredito e sbattuto fuori a calci. Niente più voleva avere a che fare Wolfgang con il conte Arco e l'unica cosa a favore di quest'ultimo era il sospetto che il camerlengo avesse agito in questo modo per ordine diretto dell'altezzoso Principe Vescovo. Mozart era un compositore che proprio per questo desiderio di libertà arrivò forse a essere un professionista freelance. Mozart infatti non si distinse solo per una svolta in ambito musicale ma anche in ambito sociale. Il compositore infatti fu il primo all'interno del panorama tedesco a staccarsi dal vincolo feudale ecclesiastico o nobiliare che fosse, ecco, iniziando la propria carriera come musicista libero e indipendente in maniera professionale. Prima di Mozart i musicisti professionisti potevano ricevere o almeno così erano soliti stipendio, vitto, alloggio ma solamente all'interno di corti aristocratiche sottostanti alle direttive dei signori feudali o ecclesiastici o, come nel caso di Mozart, di tutti e due avendo dovuto servire il Principe Ercivescovo. Il coraggio di Mozart che lo vide andare contro persino al padre non fu però premiato come forse avrebbe meritato. Succube di un mercato musicale non ancora ben sviluppato delle continue vicende economiche che all'interno dell'impero concedevano spazio alle sue commissioni o, nei casi avversi, invece limitavano le spese musicali per esigenze di risparmio dei più facoltosi, Mozart dovette a un certo punto subire la povertà. Un brutto colpo fu anche il problema dei clienti di Mozart. Erano per lo più nobili o borghesi arricchiti all'inverosimile. Quando Mozart pubblicò Le Nozze di Figaro di cui compose la musica mentre il libretto fu opera di Lorenzo da Ponte e la fonte letteraria vera e propria di Beaumarchais un drammaturgo francese ecco ad esempio con Le Nozze di Figaro Mozart condannava i vizi e i poteri degli aristocratici ma facendo così diventano in viso a buona parte proprio di questi ultimi che erano una fetta importante della sua clientela. In realtà c'è anche da dire che Mozart aveva guadagnato molto nel corso della sua vita ottime cifre ma che il suo stile di vita nel periodo viennese in particolare sembrerebbe la sua presunta passione per il gioco d'azzardo lo avessero spinto più facilmente verso una crisi delle sue finanze specie quando i guadagni derivanti appunto dal periodo d'oro viennese iniziarono a diminuire. dopo un periodo di crisi economica Mozart ricominciò a guadagnare bene nel 1791 anno dove però venne colpito probabilmente da una glomerulofrite a eziologia streptococchica una malattia infiammatoria che gli intaccò i reni causandoli una nefrite acuta che lo condusse infine alla morte. e fu così che uno dei geni musicali di tutti i tempi fu costretto beh almeno in un certo senso a vivere in mezzo a crescenti difficoltà economiche in parte anche dovute al suo sogno di libertà per cui era diventato il precursore di un mercato musicale più moderno che proprio dopo la sua morte inizierà a fiorire a lasciare spazio e indipendenza ai nuovi musicisti se non altro ecco Mozart che si era unito alla massoneria che si pensa credesse negli ideali di comune apertura mentale in ambito religioso di lotta al crescente bellicismo in vigore in tutta Europa supposto grande sostenitore del pacifismo anche se per poco tempo ecco considerato il fatto che visse in tutto solamente 35 anni e con varie difficoltà ecco Mozart potè godere della propria libertà e vivere senza i freni delle particolari pretese e capricci a cui erano sottoposti gran parte dei musicisti del tempo innovando quindi la musica non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista sociale di Grazie a tutti